ciao ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di contatori del tempo un altro episodione dedicato ai vostri orologi eccoci qua per un'altra fantasmagorica puntata di quel format che tanto ci garba assai no gli orologi degli altri siamo voyeur vogliamo vedere gli altri cosa hanno in collezione e magari prendere spunto ma lo spunto non è preso consapevolmente noi non siamo consci è il nostro inconscio che lavora il nostro inconscio si chiama scimmietta perché è lei che guarda al posto nostro in quel momento il tuo sguardo diventa vitreo nel vuoto ed è lei che prende il controllo e guarda quando trova qualcosina che gli garba e fa così con la mano come per mangiare la nocciolina ma la nocciolina non c'è è vuota la zampetta capito quindi sei te che in quel momento poi ti svegli e dici questo questo voglio questo ma non sei te che l'hai deciso è qualcun altro che l'ha deciso hai capito vabbè queste sono cose della psicologia avanzata applicata all'appassionato di orologi che io mi pregio di insegnare ho la cattedra insegno scimbiologia degli orologi va bene dopo queste fanfaronate possiamo quasi quasi passare ci abbiamo il computer nuovo ragazzi c'ho un hp nuovo perché la barra spaziatrice ci ha lasciato non ci ha lasciato adesso diventava pesante il tutto no allora ho fatto un investimento ho preso un hp un hp con il mouse anche che si stacca speriamo che funziona bene tanto ci devo guardare solo i video non mi serva niente va bene l'orologio del giorno è questo bellissimo long jean ultra chrome del 1967 con 34 mm di diametro cassa un orologino che al polso mi sta anche bene 34 mm mi rende anche fine voglio dire no quindi non si possono indossare 34 mi si può indossare sì oh bello ultra chrome calibro 431 a 36.000 alternanze orarie no era il periodo nel quale si cercava sentivano già l'odore del quarzo eh si sentiva già nel 67 66 65 l'odore del quarzo che arrivava e dicevano qua bisogna fare qualcosa 36.000 alternanze che poi non è la frequenza a determinare la precisione di un orologio no un orologio può essere più preciso per assurdo a 18.000 basta che eh la l'oscillazione no l'ampiezza è costante non tanto l'alta frequenza alta frequenza serve in caso di un intervento esterno un orto no a recuperare prima a recuperare prima questa costanza di oscillazione va bene ma sono discorsi ultra che non poccio l'ultronic eh l'ultra quartz tutti ultra a quel punto lì e tutti ultra erano tutti ultra meno dai basta troppi discorsi eh inforchiamo gli occhiali barra nuova spazzatrice ancora vergine gli diamo il primo colpetto eh mi spiace il primo colpetto gli diamo noi fuoco buongiorno Davide buongiorno a tutti gli amici del canale a tutti eh qui abbiamo un paio di una scatola del tempo mosli che guarda che costa anche dei soldi perché un po' ora io ho fatto delle recensioni me le avevano regalate anche di un paio di scatole del tempo di quelle costose una costava 800 euro veniva dalla Cina un'altra la faceva un italiano di design proprio belle e io gli ho sempre riscontrato dei difetti cioè costavano dei soldi e erano difettuose stavamo a costare dei soldi anche questa quelle cinesi da 50 euro che prendo su Amazon ce l'ho da 5 anni non mi ha mai dato problemi funziona che è una meraviglia va via la corrente e continua a funzionare cioè riprende alla memoria no? le altre andavano via la corrente e si fermavano te stavi due giorni non lo sapevi che era andata via la corrente di notte e si era fermata la scatola del tempo all'orologio fermo ad esempio no? va vabbè e poi abbiamo le due Ferrari una è quella di Charles Leclerc numero 16 quella in basso più moderna la vedete che c'è un passo maggiore la carreggiata maggiore e quella di sopra è del 2004 dell'amico Michael Schumacher la vedo la riconosco bravo bravo sei un appassionato come me per presentarvi la mia piccola collezione di orologi piccola grazie anche a caro Davide che mi ha un attimo inserito in questo ambiente perché io ho due anni che ho iniziato questa passione e piccolo messaggio per Davide il giorno del watch meeting avresti fatto un gran bene a lanciare per aria l'orologio di mia figlia che alla fine non hai fatto perché sei dotato di un gran cuore quindi hai capito penso anche chi sono un giorno passando un giorno di neanche due anni fa passando in una vetrina davanti a una vetrina vedi questo tra i tanti mi catturo subito e non sapendo un H di orologi però feci una cosa e entrai a provarlo U-Bot U-47 bronze è un 999 pezzi mondo come lo indossai scattò qualcosa scattò qualcosa è un 47 mm appunto è bello importante da portare insomma è un orologio al mare ci sta ci dà l'idea e niente fu amore però prima di prenderlo dato che appunto non ne capivo un fischio e tuttora non ne capisco niente eh attenzione come tutti presi la decisione di tornare a casa guardare su internet chi era Italo Fontana che cos'era il brand cosa portava avanti e dopo una settimana lo feci mio cinturino il suo è in pelle l'originale in pelle adesso poi mi piace perché il bronzo inizia a virare e cinturino in pelle io gli ho messo questo caociu sì ci sta bene che dire ogni volta che lo metto mi trasmette qualcosa dopodiché partito una volta partito come sapete tutti non ci si ferma più e mi piaceva un naked cioè comunque uno scheletrato naked naked hai trasportato i termini motociclistici nell'orologeria naked beh però non è sbagliato come idea naked scheletrato diciamo va bene cerca di qua guarda di là mi sono imbattuto in questo edox del film meccano movimento sellita sv200 ah scusate qua è incassato un stb1 barra 11 ok fontana in cassa a tutte meccaniche svizzere e mi sono imbattuto in questo simpatico marca blasonata insomma c'è poco da dire tra l'altro ho visto anche i diver adesso che sono usciti da poco che li ho visti lì da dal buon Giacomo appunto il giorno prima del watch meeting è insomma belli orologi bello massiccio con il suo bel bracciale a farfalla a farfalla ha delle belle lavorazioni certo il movimento che si vede all'interno è un movimento comunque basico non è elabore sellita ma a me piace tanto mi piace un sacco perché a differenza di altri diciamo naked io li chiamo naked ma è uno scheletrato ha questa lavorazione che comunque è un non so che di quadrante quindi come dice qualcuno bello 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 ora no dicendo sono due orologi che a me non piacciono non piacciono li capisco li comprendo li approvo per gli altri ma a me non piacciono nello scheletrato nel 47 mm che tutto sommato poi ci sta anche ma in barca quel 47 mm e un voto ci sta no però mi viene in mente che ti sei venuto al watch meeting quindi sei anche uno di quelli di amici del canale più affezionati al canale che ha fatto dei chilometri per venermi a trovare e per assurdo non ti sei fatto influenzare in nulla perché hai preso due orologi di cui io non ho mai parlato e che non rientrano nei miei gusti quindi tanto di cappello per te dopodiché ho iniziato a ripercorrere un po' la storia delle case orologiere e quant'altro e ho detto ok devo avere un è il primero top cronamaster è il primero calibro 400b range rover edition che è stata prodotta a cavallo del 2017 fino ad oggi la fanno ancora penso e niente questo è qualcosa di magico ebbè c'è una storia dietro enorme che non sto qua a raccontare perché non abbiamo tempo chiaramente ma non sono io quello che deve raccontare la storia di questo calibro ma a me guardando appunto appunto i vari cronamaster ho visto questo quadrante e ho detto buono quello diventa mio ed eccolo qua pur non amando le casse comunque lavorate colorate o quant'altro mi piace tanto vedere l'acciaio vivo c'è anche spese di soldi o l'oro comunque ecco cassa viva eppure questo quadrante l'ha vinta molto fine un 11,4 mm al quale io ho messo questo braccio questo cinturino bello 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 e il suo originale nella scatola è un deployant in caucciuri vestito di pelle che richiama appunto gli interni ranger over mi fa morire e tra l'altro era l'orologio del giorno al watch meeting il punto al quale ho partecipato con tanto orgoglio bravo e tanta felicità felicità e per finire quattro orologi e basta non ci potevamo far mancare l'orologio del giorno acquistato dal buon Giacomo l'orologio idroconquest ghiera verde 41 mm oh bravo era già qualche mese che cercavo appunto un diver come mi sono imbattuto in questo nella tua ultima recensione sono andato indietro a vedere com'era com'è quello che è diventato ed è ormai un classico spettacolare mi fa mi fa morire e tra l'altro il buon Giacomo si chiama buon proprio perché ha fatto qualcosa di eccezionale un trattamento veramente veramente ottimo al quale io ho già aggiunto il braccia il cinturino originale in cauciu che mi arriverà a giorni bravo per passare un'estate con lui soprattutto una vacanza al mare che è il posto dove merita eccoci io penso di avervi detto tutto a te ringrazio tanto mia figlia ti vuole bene tanto quanto me quindi grazie ancora Davide per tutto quello che fai con il tuo canale con i vari gruppi e love tanto love 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 oh quattro orologi che ti do un otto ti do un otto soprattutto perché hai preso la tua strada cioè sono tutti i tuoi e quattro orologi che io apprezzo ma che non comprerei ad esempio l'idrocon che si verde l'ho fatto alla recessione bello messo lì però il verde non faccio fatica lo zanetti il primero con la cassa nera faccio fatica mi piace le zanetti il primero lo vorrei faccio fatica te l'hai preso poi lo scheletrato l'hai preso e l'ubbote da 47 l'hai preso quindi hai quattro orologi completamente al di fuori dei miei gusti e sei un follower del canale un bel otto per la personalità perché sai andare dietro ai tuoi gusti senza farti influenzare poi da qualcun altro ti farà influenzare non lo so però il fatto che io faccia le recensioni serve proprio a questo se ti hai detto che sei andato indietro a riguardarla e lì ci sono le fotografie ci sono le misure ci sono le macro uno guarda non è che si deve fare influenzare guarda sono lì servono e poi dopo decide in base ai suoi gusti poi va alla prova l'ultima prova è quella decisiva quando sei lì dici no magari no però il mio dovere è quello di farvi vedere come sono fatti gli orologi non di dirvi compra questo compra quello poi ognuno ha i propri gusti cosa aggiungere poi va bene niente che fa piacere quel discorso lì e che poi però capito non è non è detto che poi io non cambi idea sugli scheletrati sul 47 mm o sul pvd nero cioè ci sta anche che un giorno poi magari mi vedete con un orologio nero o al momento non mi va o magari quando c'è tanti orologi poi vuoi cambiare ti stufi vuoi cambiare voglio quello da 47 voglio quello nero che poi vi ripeto non poi per andare al mare ho ordinato anche il caociu per andare al mare e questo ti fa onore perché a volte posto le foto con il mio Seamaster 300 al mare oppure lo Speedmaster in palestra c'è sempre qualcuno eh ma con lo Speedmaster in palestra non ci si va perché si rompe eh ma col Seamaster al mare non ci si va perché ci va la sabbia ma andate a quel paese e il Dejust al ristorante non ci si va perché te lo rubano il Seamaster al mare ci va la sabbia si rovina lo Speedmaster in palestra tocca contro i pezzi di ferro e si rompe ma cosa volete fare volete passare tutta la vita con il Timex al quarzo per l'amore del cielo 40 euro spesi bene e tutti gli orologi in cassetta nella cassaforte puoi morire con gli orologi nella cassaforte oppure aver speso dei soldi a dire cazzo speso dei soldi almeno ci vado in giro li uso per quello che sono e se si rovina si rovina se si rompe si rompe se me lo rubano me lo rubano e mi scoppia la televisione a casa cosa faccio non guardo più la televisione perché potrebbe scoppiarmi la televisione in faccia eh no il calcolo delle probabilità è il calcolo delle probabilità se va avanti quello che succede succede come porfi rimedio poi si vedrà ma perlomeno gli orologi godiamoceli eh se no beh prossimo video prima che mi altero ciao davide ciao sono luca da treviso e prima di tutto ti faccio i complimenti per il tuo canale che è sempre molto interessante e parto subito con la presentazione della mia personale raccolta eccolo lì che bello cominciamo con questo omega de vil movimento al quarzo tutto d'oro un orologio molto piccolo questo era di mio padre lo porto forse l'avrò messo una volta credo ho provato anche sostituire il bracciale molto bello per carità mamma mia non non di mio gusto ho provato a sostituirlo col centurino in pelle con un centurino in pelle ma non troppo piccolo 33 mm però insomma è qui in collezione lo teniamo lo teniamo con cura sai che 33 mm è poco distante da questo cioè ragazzi bisogna anche abituarsi uno ha l'occhio quello da 42 il diver da 42 indossa sempre quello quando ti ne metti uno da 34 o da 33 al momento rimani spiazzato bisogna un attimo abituarsi una volta che ti sei abituato sta bene io ho visto quel bracciale lì che se è full gold massiccio è tanta roba tutto d'oro così secondo me fa l'effetto quasi di un monile di un bracciale di un unico bracciale con l'orologio e io lo indosserei veramente con piacere mi divertirei proprio ad indossarlo alla faccia degli altri che no ma però piccolino tutto d'oro puff te lo metti così e vai dove ti pare aspetta piccolino fate come volete passiamo poi a un citizen promaster c'è a tutti un orologio che ho preso perché volevo un diver da portare al mare lo uso poco approfitto anche per spiegarti la logica della mia presentazione ho deciso di presentarti gli orologi secondo la mia personale classifica di piacere nel momento in cui li metto al posto ok quindi qui partiamo dal basso questo è un orologio che porto molto poco continuiamo con un omega dynamic sempre ereditato da mio padre un orologio che lui ha portato tantissimo carica manuale perfettamente funzionante ha i suoi segni del tempo ma questa è la cosa che lo rende ancora più più interessante la storia che c'è dietro questo orologio che era di mio padre quindi ogni tanto lo porto ma non molto appunto i segni del tempo lo rendono più interessante perché era di tuo padre questo cosa vuol dire che se io per assurdo il mio orologio lo tengo in cassaforte non lo indosso mai poi un giorno lo regalo a qualcuno di caro come fosse nuovo gli sto regalando un investimento ce lo va a vendere ci fai soldi va bene bravo ti godi i tuoi soldi va bene ma non è l'orologio che ho utilizzato che hai utilizzato che c'è i graffi che ho utilizzato questo qua l'ho utilizzato tanto nell'estate basta una nell'estate del 2024 l'ho utilizzato tanto quell'estate lì che c'era il tempo così poi è successo questo quell'altro siamo andati fatto brigato no passiamo un orologio che invece negli anni ce l'ho dato quando ero ragazzino ho portato un Breitling Cronomat molto bello originalmente aveva un cinturino in pelle marrone che poi successivamente ho sostituito con questo bracciale che mi piace molto devo dire che è un orologio che apprezza porto meno un po' perché nel tempo l'ho portato molto passiamo all'ultimo orologio ereditato da mio padre il Roylex The Just 36 mm bracciale giubilier acciaio oro un bello orologio sicuramente che metto con piacere ma non spessissimo anche questo un 36 mm a gusto mio non mi fa impazzire 36 va benissimo però lo tengo sempre qui in collezione e questo non uscirà mai fermo un attimo perché per ora abbiamo visto i cinturini che ti ha lasciato il babbo e per l'amore del cielo aveva dei gusti top il babbo il Dejust il Breitling Cronomat l'Omega UFO volante lì disco volante o UFO UFO volante no e il primo l'altro omeghino tutto d'oro aveva dei grandi bei gusti anche diciamo anche delle belle possibilità economiche perché tutti e quattro insieme chissà quanto ha speso quel tempo lì anche quel tuo d'oro bravo e te li hai tutti messi come primi cioè meno utilizzabili questo me lo assegno in fase di votazione me lo assegno passiamo al lato destro della mia collezione e qui sono gli orologi che porto più spesso che dire abbiamo questo Carrera quadrante blu Carrera 5 un bel orologio l'ho acquistato col suo bracciale in acciaio ma lo trovo più interessante con un bracciale in pelle come in questo caso con questo scamosciato marrone chiaro anche questo ha dei bellissimi riflessi il quadrante lo metto volentieri con piacere bene il prossimo orologio successivo è un Seiko GMT ghiera blu e nera anche questo dei riflessi incredibili lo metto veramente con piacere è un orologio che non mi stanco mai di tenere al polso devo dire sono soddisfatto di questo acquisto il prossimo orologio è un iwc che mi piace tantissimo quadrante bianco questo stile sicuramente elegante ma allo stesso tempo sportivo che che utilizzo nelle occasioni magari più formali è sempre un piacere averlo al polso devo dire un bello orologio iwc fa orologi top il prossimo pezzo è un forse l'orologio a cui io sono più legato questo GMT Master top che bella collezione che anche questo ha portato tantissimo diciamo che è stato il mio secondo orologio dopo secondo orologio importante chiaramente dopo il Breitling Chronomat e è stato per anni al mio polso e continuo a portarlo veramente un orologio che non passerà mai tra i miei preferiti la sua posizione è sempre molto alta infatti siamo al terzo ultimo orologio gli altri due cosa saranno il secondo orologio nel podio è un marchio che ho scoperto e di cui mi sono innamorato addirittura Gemini carica manuale un orologio che rapporto qualità prezzo secondo me è imbattibile una qualità di costruzione molto alta un design che richiama i crono vintage rivisto in chiave moderna veramente bello mi mancava un orologio con il quadrante panda e questo quando l'ho visto mi sono innamorato è diventato subito mio non è anche facile da trovare perché sono in produzione non è più e ho trovato un secondo polso ho tenuto benissimo e sono molto soddisfatto Laurier per chi non lo sapesse è un micro brand è un micro brand texano messo su da moglie e marito che erano insegnanti adesso questo presumo sia diventato il loro business principale che poi si sono trasferiti dal Texas a New York si li devi acquistare negli Stati Uniti con i dazzi quindi c'è sempre questo scoglio della spedizione delle tasse in più dell'iva da pagare aggiuntiva a meno che non lo trovi usato appunto come hai fatto te magari su ebay da qualche europeo che l'avevo già acquistato quindi sei già sbolognato tutto lui e te basta che lo prendi a quanto lo metti in vendita però questo fa specie vedere un micro brand al secondo posto prima addirittura del GMT dei Rolex del Carrera del Brighton Cronomat cioè questo sta a significare che non è vero che un orologio costoso sta nel nostro cuore in classifica più in alto di uno meno costoso tende ad indossare anche orologi di micro brand oppure entry level come magari il 6.5 GMT siamo fatti così ultimo andiamo all'ultimo pezzo della mia collezione che questo è un orologio che ogni volta non ho fatto addirittura era da tanto che volevo prendere uno speedmaster e devo dire che finalmente ho trovato il mio speedmaster 38 mm il movimento automatico coaxiale il 38 mm coaxiale bello è bello sì so che anche tu l'avevi valutato e che ho fatto bene top ho visto la tua recensione oh vedi qualcuno che l'ha preso c'è questa è la mia raccolta ti ringrazio ancora per l'attenzione e spero tu l'abbia apprezzata apprezzata moltissimo apprezzata moltissimo soprattutto per la classifica dove sei andato a parare cioè il tuo orologio preferito è lo speedmaster da 38 mm coaxiale non è il reduce da 39 che ho confuso all'inizio quello coaxiale di cui avevo parlato anch'io che era entrato nelle mie interessi nel momento in cui lo speedmaster moonwatch esisteva solo con il calibro 1861 che non è coaxiale quindi l'avevo messo da parte e avevo preso in considerazione anche questo un bel 38 mm coaxiale è qualcuno che l'ha preso e che ce l'ha che se lo gode esiste hai visto proprio bello primo questo secondo il Laurier terzo Rolex GMT figurati un po' quarto il Seco 5 GMT quinto in Carrera sesto me li ricordo tutti il Dejas da 36 il Breitling poi per quelli magari perché erano di tuo padre quindi secondo me non li hai scelti te e li senti meno tuoi ecco nonostante tu magari li apprezzi gli apprezzi e li tieni in considerazione perché sono di tuo padre però siccome non li hai scelti tu preferisci indossare gli altri ci sta come ragionamento io ti do un bel 8 e mezzo perché te lo sei meritato soprattutto per come come hai valutato i tuoi orologi senza andare avresti potuto dire quello che indosso di più è Rolex GMT secondo Rolex Dejas terzo il Breitling Kronomat quarto del Carrera e si va a prezzo a mainstream invece hai seguito il tuo gusto che mi piace il tuo gusto bravo sei promossissimo prossimo video ciao Davide ciao mi chiamo Francesco Francesco da Rovigo e volevo condividere con te la mia piccola collezione di orologi e fate complimenti per il canale grazie allora comincio subito non ho tanti pezzi quindi sarò molto sbrigativo allora comincio occasion con questo Casio CA ci sta un orologio molto semplice molto conosciuto che mi è stato regalato da un mio caro amico in quanto siamo due appassionati di Breaking Bad e Ritorno al Futuro ah ho capito molto carino ci sta scegliere un orologio per quel motivo ci sta il mio primo diver cos'è eccolo qua bello questo Rotary Super 7 Scuba con calibro della serie Miota 8000 un orologio che hai già recensito e un rapporto qualità prezzo niente da dire un orologio di tutti i giorni sono contentissimo mi dà soddisfazione anche per il quadrante arancione e questo qua secondo me questa serie qua è sottovalutata costano poco più di 200 euro hanno vetro zaffero ghiera in ceramica un aspetto tutto sommato abbastanza originale la qualità c'è un orologio che come entry level possono essere messi alla pari il marchio non vale tanto quanto a loro ma alla pari di un Citizen Pro Master o di un 6.5 diver lì da 100 metri sì ci sta questi qua sono veramente sono veramente impermeabili a 200 o 300 addirittura non ricordo sono validi il mio primo vintage cos'è? questo racchetta a racchetta c'è va anch'io multicalendar con calibro 26-28 H a carica manuale c'è va anch'io c'è va anch'io un orologio del 1989 trovato per puro caso me ne sono innamorato e bravo e niente me lo sono portato a casa vai dispongo del tutto di tutto il suo corredo ovviamente con cinturino cccp e anche la sua scatola ride ride e niente anche questo qua molto molto bello e particolare molto bello seiko questo qua è un orologio che ho regalato a mio papà qualche anno fa mi piace tanto è un seiko raycraft non conosco il movimento penso che sia un movimento di manufattura seiko lesevo tipo 7s26 ma non lo conosco 7s26 e niente l'ho regalato a mio papà perché ha una passione smodata per gli orologi quadrati e rettangolari e niente e niente sempre molto carino particolare insomma è simpatico simpatico poi ecco io adesso qua ho una domanda da porti ecco fatto allora questo qua è un princeps inca block 25 rubini che è stato regalato da mia mamma a mio papà per il matrimonio ma facendo qualche ricerca su internet purtroppo non ho trovato informazioni riguardo a questo orologio volevo chiederti sapevi sai qualcosa della casa o anche alla community insomma se qualcuno sa qualcosa magari mi può in qualche modo aiutare insomma perché qua leggo che monta passatemi il termine un calibro swiss made ma conoscendo un po' la casa così non so prenderei con le pinze tutto questo quindi comunque chissà qualcosa magari mi può gentilmente informare ecco vi ringrazio sì ma non è che posso sapere tutto io cioè non lo so non so princeps se te vai sul signor google lo zio google gli scrivi princeps orologi storia e ti vengono fuori migliaia di pagine da cui puoi incominciare a farti un'infarinatura poi per l'orologio specifico non lo so non ho idea mi dici 25 rubini inca block e io ti dico dentro c'è un etta 28-24 se è un regalo dei tuoi genitori per le nozze magari si fa già un po' dietro nel tempo e non è che c'era tantissima poi scelta di calibri di fornitura swiss made molto probabile che sia poi lo vedi c'è scritto se con un lentino guardi dentro lo vedi se c'è il simbolo di etta sulla platina visto che è trasparente ogni tanto servono anche fondelle trasparenti quindi non saprei poi cosa aggiungere etta 28-24 boh Princeps è una casa che se ora vai a vedere sul sito web ufficiale ti trovi magari con tanti orologi che sono un po' simili a degli orologi più famosi diciamo delle copie tirano a vendere non è che hanno più quella grande personalità cioè quando uno non ha più voglia di stare dietro agli orologi cosa fa? fa le copie del submariner la copia del GMT la copia del Digest e li mette in vendita tira sui soldini così tira sulla mesata come suol dire senza spendere delle energie nel pensare una collezione nuova marketing facciamo brighiamo cosa ci inventiamo di nuovo cosa possiamo capito? però amici da convinti venitemi in aiuto voi non è che devo sapere tutto io princeps princeps ed ultimo mio ultimo a Chiappone ho trovato un'offerta che non potevo rifiutare mi sono portato a casa questo bellissimo Tudor 1926 bello che dire un altro orologio che hai recensito lo desideravo da tanto da tanti anni e niente eccolo qua non mi dilungo oltre perché comunque conoscete tutti di che orologio sto parlando ed essendo stato il mio primo acquisto serio non posso essere mi orgoglioso fai bene ecco qua caro Davide ti ringrazio per avermi ascoltato e ti ringrazio nel caso pubblicherai il video e basta a presto grazie a tutti arrivederci ciao 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 e niente praticamente qua abbiamo un caso è un rotary un racchetta un seccone quadrato un princeps e poi bellissimo Tudor 1926 è un 6 e mezzo proprio guarda poco più della sufficienza i voti sono dati a membro di Segugio ok togliamo questo dubbio non è che c'è una proporzionalità che uno dice questo quell'altro sono dati a membro di Segugio come mi pare a me come mi sveglio come voglia e li do quindi non è che dovete fare la classifica è un gioco è un gioco capito quindi 6 e mezzo va bene il Tudor 1926 ce l'avevo anche io questo qua non capisco che diametro cassa è alla data un po' al centro sarà un 42 facciamo da 42 da 40 da 36 non lo so io l'ho preso bianco uno dei pochi casi in cui ho preso l'orologio bianco perché si leggeva bene praticamente i numeri e le sfere erano blu si leggeva proprio bene era da 39 non da 40 da 39 perfetto bello 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 questo qua nero così con gli indici guilt mi piace anche questo qua bello dai sicuramente anche questo qua monta un'età 28-24 quando vedete la scritta rotors self winding sono i Tudor che incassano l'età 28-24 e ci sta va benissimo ripeto non è che dobbiamo per forza mirare sempre gli orologi con il calibro di architettura proprietaria manifattura ci riempiamo la bocca se no l'orologio è bello è bello ancora un video dai volevo fermarmi qua ma facciamo ancora un video vai ciao Davide ben trovato sono Matteo ho 26 anni ti avevo mandato un video circa tre mesetti fa forse calcolando il tempo con quando pubblicherai questo video se lo pubblicherai e sono il ragazzo quello che aveva il reverso e il Rolex GMT Master 2 e quel vecchio Longin bravo questa volta ti volevo far vedere la collezione piccola collezione di mia madre perché in famiglia l'appassionata di orologi oltre a me è mia madre non mio padre come molto spesso invece succede sul canale e ti volevo far vedere i suoi orologi in aggiunta però volevo farti vedere due piccole aggiunte che ho fatto alla mia collezione il primo è questo qui che so che avevi anche tu un semplicissimo vostro canfibia mi piace tantissimo perché non ha carri armati stelle rosse cose del genere mi piacciono le scritte in cirillico dietro ci ho messo questo cinturino in gomma ma così perché mi sembrava meglio del suo quello con cui è arrivato e l'ho preso per l'estate diciamo bravo volevo un orologino da poco che mi piacesse mi dà comunque molte soddisfazioni e ciò che te hai cambiato la la ghiera l'avevi messa non mi ricordo se blu e nera comunque blu doppio colore stile Rolex posso dire blu ma a me la sua questa qui diciamo cromata insomma lucida mi piace tantissimo quindi lo tengo così ha più personalità e successivamente questo l'ho preso perché l'ho trovato a un prezzo stracciato nella mia gioielleria di fiducia questo blu mdm un genive e l'ho preso un po' per sostituirlo anche a questo a questo qui è al quarzo però come dress watch peccato per so che non dovrebbe avere nemmeno la lancetta dei secondi ma come dici te è molto utile anche se al quarzo perché così si vede se l'orologio funziona ma peccato per la finestra della data ma per il resto mi piaceva veramente sottilissimo ovviamente essendo al quarzo con questo cinturino in caociu fermiamolo qua così si vede bene la finestra data sta proprio male cioè un orologio senza indici senza niente con la finestra data bianca così veramente non ma sto qua non è dovrebbe essere cioè vecchio è vintage nel senso che mdm e quando ancora si chiamava mdm e il modello era ublu poi dopo ublu è diventato il brand all'inizio era mdm il brand io mi sembra che sia così posso dire anche delle fregnace però scimmietta è una fregnace ha detto di no ha detto che ho ragione io pulito e niente ublu mi piace moltissimo come lavoro ublu bravo detto ciò passiamo agli orologi di mia madre il primo che ti faccio vedere è questo rolex dayjust 31 mm la referenza è la 68274 ha la lunetta zigrinata in oro bianco biacciale bracciale jubilee è un 10 atmosfere qua come vedi ha questi diamantini al posto degli indici e il calibro se non sbaglio è il 21-35 con poco più di 40 ore di riserva di carica e mi piace veramente moltissimo sul polso di mia madre secondo me sta molto molto bene ovviamente è un orologio di qualità eccelsa certo l'unica cosa che non mi fa impazzire è il bracciale scusami il bracciale jubilee che purtroppo nel corso del tempo pur essendo bellissimo e comodissimo è diventato molto lasco e quindi bisogna fargli una bella revisione a questo qui anche al bracciale è perché di per sé il bracciale jubilee è abbastanza è veramente snodato quindi c'è maggiore attrito e quindi c'è maggiore consumo e quindi tende nel tempo nel lungo tempo a indebolirsi poi questi qua vintage mi sembra se non vado errato hanno le maglie vuote addirittura quindi fa anche prima a diventare lasco il bracciale a stancarsi normale è normale rimagliare rimagliare un bracciale costa dei soldi successivamente ti faccio vedere come dici sempre te che le donne il gentil sesso molto spesso utilizza dei segnatempo come se fossero bracciali più importanza al bracciale quindi con un segnatempo attaccato ti faccio vedere questo qui eccolo lì bello questo bulgeri serpente rovo gas un 35 mm un orologio che ha un fascino bello bello è in oro rosa so che sembra oro giallo ma in realtà è oro rosa è colpa della luce che sto usando e acciaio è un quarzo solo tre atmosfere di impermeabilità ma questo secondo me questa è una genialata è una genialata di design come si fa a non apprezzare apprezzare nel senso estetico neutrale non che lo voglio io che lo voglio indossare che mi piace al quarzo non mi interessa è fatto a birimbingu non mi interessa però è da apprezzare la genialità del design di bulgari secondo me l'hanno venduti una marea ha uno stile forse è il più bello tra tutti gli orologi che ha proprio per quanto riguarda il design insomma fa veramente scena quando ce l'ha al polso è molto bello molto chic chic successivamente ti faccio vedere questo piccolissimo Cartier Tank in oro 18 carati oro giallo ovviamente con i numeri romani un 22 mm sottilissimo ovviamente anche questo qui è al quarzo la referenza è la 24-42 ha questo cinturino in pelle di coccodrillo il calibro è lo 0.57 ovviamente al quarzo di Cartier però questo qui forse è un po' troppo piccolo per i miei gusti anche vedendolo sul polso di mia madre però devo dire che fa una scena bellissima bellissima è una linea senza tempo un design senza tempo è un orologio di qualità eccensa troppo piccolo lo vedi perché anche questo qua la sua funzione è quella di trasformarsi in un cinturino unico la testa dell'orologio va ad integrarsi completamente nel cinturino e diventa un cinturino decorativo ornamentale per il polso della signora è così che deve essere non deve avere la testa grande l'orologio infine ti faccio vedere quasi per concludere questo Cartier Santos 24 mm in acciaio la referenza è la 24-23 e monta il calibro 0.77 questo è un automatico so che tra l'altro visto che l'hai preso anche te di recente un Santos ovviamente nella misura più adatta al tuo polso però questo qui mi piace veramente moltissimo non ha la finestra adatta ovviamente tutto piccolissimo però l'unica cosa l'unica pecca di questo orologio secondo me e anche secondo mia madre è che purtroppo non ha la ricarica manuale è solo un automatico senza ricarica manuale e questo pecca un po' perché come sappiamo tutti il gentil sesso usa spesso lasciare gli orologi nel cassetto e metterli solo durante determinati outfit e quindi una volta che mia madre lo va a riprendere non può caricarlo e sistemare l'ora subito ma deve metterselo al polso anche perché ci mette un pochettino a ripartire questo qui non è proprio ad essere ripartito non è proprio che si è già fermato non è proprio rapido quindi peccato peccato scatola del tempo infine ti faccio vedere questo orologio da tasca appartenuto alla sua nonna quindi alla mia bisnonna questa è in oro 14 carati e funziona ancora perfettamente non perde un secondo è fantastico l'unica cosa non so dirti di che maison sia di che marca sia perché non ho trovato nulla anche aprendo il calibro vedendo il calibro purtroppo non mi sono ancora impegnato del tutto ma non ho trovato informazioni molto complete diciamo l'unica cosa che so appunto è che apparteneva alla mia bisnonna funziona ancora ha questa specie di catena questa non credo sia questa credo sia placata a differenza ovviamente dell'orologio e però fa scena e mia mamma lo utilizza ancora lo attacca alla borsa e se lo porta in giro e guarda l'ora così bene Davide detto questo ti ringrazio grazie a te vorrei fare una piccola riflessione per quanto riguarda il video che ti avevo mandato io dove avevo mandato alla fine dei miei orologi c'era anche appunto questo Rolex GMT Master 2 mi dispiace mi dispiace che sotto i commenti ho visto un sacco di commenti che dicevano che l'orologio fosse falso così non è anche vedendo il calibro degli altri orologi e mi dispiace che ci sia questa situazione sui Rolex purtroppo gli orologi più falsificati al mondo ovviamente mi dispiace ecco mi dispiace perché secondo me viene a meno quella che è la nostra pura passione dell'orologeria lasciando perdere tutto il discorso su che i falsi non dovrebbero esistere tutto il resto ma anche giudicare subito non tenendo conto neanche degli altri orologi perché comunque voglio dire c'erano anche altri orologi di Rivello e a giudicare solo che è un falso solo perché si vede la scritta Rolex mi fa un po' male perché non sono i migliori orologi al mondo non lo metto in dubbio ma sono degli ottimi orologi mi dispiace che siamo arrivati a questo detto questo ti saluto continua così grazie mille e un saluto a tutti gli amici del canale un salutone sì ma è così è diventato così purtroppo quando le persone vedono Rolex Odemar Piguet o Patek Philippe sotto al video ci sono sempre un sacco di commenti sul fatto che è falso è capito cioè così ha partito preso senza capirci niente non ci capiscono una minchia però è falso perché una persona non può avercelo devono mettere il dittino così lo vedo anch'io lo vedo anch'io ma altrimenti lasciamo lì parlare perché o ci sono dei motivi tecnici reali per cui mi dici se no per me è falso qual'altro c'era un Odemar Piguet che aveva una clasp un pochino storta e succedeva ai primi modelli che venivano nel tempo c'era questo problema e molte persone l'hanno additato come falso per quel problema la clasp senza sapere tutto il resto e continua ancora tutto adesso i commenti ogni tanto continuano su questa falsa riga ma cosa gli vuoi dire la gente è messa lì apposta per giudicare noi ci dobbiamo sbattere 8 la collezione 8 perché finalmente vediamo una collezione dedicata tutta al gentil sesso e la mamma c'ha gusto diciamo la verità la mamma c'ha gusto e poi vuol dire che è proprio appassionata perché andare in giro addirittura con l'orologio da tasca attaccato alla borsetta sarà scomodo a un certo punto poi vuol dire che la passione l'estro la voglia di diversificarsi dagli altri è una porta a utilizzare anche quell'orologio lì Bulgari quello a Serpenton mi è piaciuto quello lì tanta roba 8 come al solito i voti sono andati appena di segugio quindi non state a vedere mi è mai dato 8 quell'altro gli è dato 7 e mezzo però quell'altro ci aveva non state a vedere quelle cose non è esattamente complimenti per tutto continua così tante belle cose e ci vediamo al prossimo video io ragazzi finisco qua 4 video ve li ho fatti vedere stasera sono stato anche troppo bravo e vi ringrazio per essere arrivati fino a qua spero vi siano piaciuti i video come sono piaciuti alla mia scimmietta e non mi resta che ricordarvi gli appuntamenti fisiche come sempre sono quando voglio io il più spesso possibile qui su youtube love